Oggi vi faccio vedere come aggiornare i vostri programmi tutti insieme senza applicazioni di terze parti. Buongiorno amici e benvenuti in un nuovo video di questo canale. Io sono Carlo e oggi vi faccio vedere una cosa semplicissima, tant'è vero che il video sarà corto perché comunque sia giusto per darvi questo tipo di informazioni e farvi vedere come aggiornare i vostri programmi partendo da Windows senza utilizzare software di terze parti. Noi abbiamo visto anche in passato programmi che ci permettono di leggere tutti i nostri software, fare gli upgrade, eccetera. Adesso vi faccio vedere una metodologia davvero semplice, semplice, semplice che potremmo usare sia per aggiornare ma anche soltanto per poter capire se ci sono dei programmi che vanno aggiornati. Allora, io la prima cosa che faccio vado sotto nel menu start, eccolo qua, anzi no, meglio andare col tasto destro sul menu start, eccolo qui, e andare ad aprire Windows, eccolo qui, PowerShell amministratore. Scusate, volevo ingrandirlo ma si è sovrapposto, però penso che avete capito. Quindi, PowerShell. Abbiamo PowerShell perché per fare questo tipo di operazione io mi trovo bene col PowerShell. Ecco, qui la apriamo bene così la vediamo tutti. Ok. A questo punto io all'interno del PowerShell devo scrivere, molto semplice, win get. Ragazzi, vi lascio questi comandi in descrizione, non impazzite a scriverveli. A questo punto win get è il comando principale e poi scrivo list e do enter. Adesso il computer farà una scansione, questa è sempre una macchina virtuale come vi ho fatto vedere, farà una scansione di tutti i software che ci sono all'interno e vedrete che lui qua mi comparirà win get. Dove mi comparirà win get vuol dire che lui ha bisogno di un aggiornamento. E io qui potrei dire Google Chrome, InfantView, Edge, Cortana, andiamo avanti, scendiamo, Notepad, OBS Studio, insomma e così via. Tutti questi programmi hanno necessità di essere aggiornati. Allora, io potrei fare due cose, o lanciare anche qui un win get singolo per ogni software, oppure potrei fare un'operazione davvero semplice, 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 e potrei dirgli, potrei scrivere questa frase qui. Win get, eccolo qui, spazio upgrade, ve lo lascio scritto in descrizione, non vi preoccupate. Spazio ancora, meno, meno all, all è scritto all, all sta per dirgli che tutto quello che lui troverà con la scritta win get, forse get è più giusto, win get, vabbè, comunque lui, lui aggiornerà in automatico. Quindi a questo punto noi gli andiamo a dare un bel enter e adesso il computer dovrebbe tranquillamente mettersi a cercare tutti questi software e fare questo tipo di lavoro. Però, ecco, scusate, non avevo spinto a enter ma non era partito. Eccola lì, infatti vedevo che era fermo ma non capivo perché. Ecco fatto, adesso lui qui mi dice che uno, il pacchetto ha un numero di versioni che non può essere determinata, però vedete bene che Notepad lo sta scaricando e lo sta aggiornando. Quindi io non mi devo preoccupare più di andare a cercare magari eventuali aggiornamenti. Lui pian pianino se li sta facendo senza problemi. Poi, se qualcuno non riesce a farlo perché magari ha delle versioni particolari e quindi deve andarlo a, come dire, va fatto a mano perché ci potrebbe anche essere questa situazione che potremmo farlo a mano, a questo punto lo andiamo a fare a mano. Però capite quanto è semplice, ragazzi, questo modo? Adesso mi sta aggiornando OBS Studio. E così, ragazzi, lui andrà avanti e se li aggiornerà tutti quelli che trova. Bene, ragazzi, questo video era cortissimo. Se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, lasciate un bel like, registratevi al canale e spuntate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.